caro sagittario benvenuto nel mio canale andiamo a vedere per te lavoro fortuna e soldi per quanto riguarda il mese di gennaio 2023 ricordo che ho pubblicato per tutti i segni zodiacali ho pubblicato la ruota dell'anno avevo fatto anche questo video le previsioni dell'anno 2022 l'ho rifatta adesso 2023 quindi vai a dare un'occhiata anche per quanto riguarda il tuo segno zodiacale il tuo ascendente le previsioni per il 2023 ok adesso invece andiamo a interrogare sempre usando la ruota la ruota astrologica andiamo a interrogare soltanto le case vi ho già spiegato che ogni casa astrologica determina un settore della tua vita andiamo a tralasciare quello degli affetti dell'amore delle relazioni non ci interessa in questo video andiamo invece a vedere lavoro fortuna e soldi interroghiamo la seconda casa la sesta casa la l'ottava casa e la decima casa che è quella della carriera se poi vuoi fare un consulto privato come anche per vedere tutto l'anno mese per mese come andrà o per fare ritualistica per ricevere il tuo trattamento in base alla situazione che mi spiegherai e sarà oggetto del consulto con oracoli sibille tarocchi mi puoi scrivere assaineri 96 chiocciola gmail.com andiamo a vedere per te ok allora ti dico subito quello che mi balza agli occhi della tua situazione per quanto riguarda ehm soldi il lavoro tutto ciò che è pratico tutto ciò che riguarda il tuo sostentamento sia da un punto di vista di realizzazione personale sia per quanto riguarda proprio i soldi che che arrivano no gli investimenti io ti dico subito qui c'è una figura per te positiva al femminile è una figura per te un po un po che non mi piace non mi piace allora ti dico abbiamo la luna abbiamo la luna nella tua prima casa nella tua prima casa io qui che cosa vedo cioè come come agisci tu come ti poni tu in questo in questo settore qui che abbiamo detto lavoro soldi fortuna posso dirti che tra lavoro fortuni soldi e fortuna quello che mi piace di più è la fortuna perché vedete qui nell'ottava casa che è la casa di tutto ciò che è improvviso tutto ciò che riguarda anche l'eredità tutti tutti quelli che sono gli eventi improvvisi ok quello che mi piace di più è l'ottava che quello che ti succede in ottava casa e ti spiego perché perché abbiamo un bellissimo 3 di denaro il che significa che potresti avere a fare o fare una piccola vincita venire a conoscenza di una di un'eredità dei soldi che qualcuno ti deve che ti devono arrivare ma proprio qui nel senso proprio stretto del termine di fortuna una serie di sincronicità si possono verificare in questo mese per il quale poi arriva magari inizio di febbraio dici ma sai che in effetti avevi ragione perché poi giorno totto io mi sono ritrovata con dei soldi in più che mi sono arrivati cioè tutto ciò che inaspettato io qui non vedo il frutto di un duro lavoro perché siamo nell'ottava casa in tutto ciò che ti succede improvvisamente questa luna al contrario abbiamo visto che ce l'hai tu in prima casa mi indica un atteggiamento da parte tua un po sospettoso un po preoccupato malfidato c'è una situazione per la quale non hai fiducia non hai fiducia secondo me di una figura femminile possibilmente di un segno d'aria o chi ha caratteristiche di segno che non tanto ti ti convince nel settore lavoro il lavoro non tanto carriera ma lavoro qui ci può essere una collega un datore di lavoro donna una persona un po che potrebbe tentare di mettere un po di ma più di un collega allora sul lavoro non so questo soprattutto per chi lavora ci potrebbero essere dei sospetti o delle atteggiamenti o venire a sapere qualcosa che ti viene fatto non ti viene detto ti viene fatto alle spalle da parte di una figura femminile è una figura maschile cioè io vedo un po la colleganza qui ho persone che devono dare una mano non ti danno una mano come se improvvisamente salta una situazione per te ok invece dal punto di vista stretto della carriera io invece vedo qui come se tu dopo tanto tempo che mandato dei curriculum delle chiamate eri in aspettativa aspettavi una risposta un accrescimento di entrate oppure un avanzamento nella tua professione io qui vedo per esempio che finalmente potrebbe arrivare la chiamata cioè tu dici mamma mia guarda me l'ho dimenticata dimenticato che tanto tempo fa avevo lasciato il curriculum all'azienda x dopo tanto tempo ti chiamano e ci potrebbe essere anche la valutazione come se qui tutto ciò che era probabilità diviene concretezza cioè si arriva al punto faccio un esempio dove tu in questo mese ti trovi al pivo per dire allora questo lavoro lo accetto non l'accetto mi chiamano la retribuzione questa lo posso fare non lo posso fare cioè qui non si manda più in canzone nulla si arriva proprio alla resa alla resa dei conti quindi positivo per te nell'ambito dei possedimenti io vedo qui dei contatti con una figura femminile di un segno di terra o caratteristiche di un segno di terra oppure del segno del del segno del leone io questa la vedo una figura non lo so se può essere la mamma la sorella un'amica un qualcuno più grande di te se tu non sei matura o maturo maturo ok c'è una figura matura io vedo qui come se ha il bene il benessere deriva anche da questa figura questa donna anche una nonna quindi è come se qui tu stai in un nido in un clima ovattato per cui dal punto di vista economico non ti devi preoccupare perché qui mi esce come se anche a livello familiare ci sono delle situazioni se non è familiare comunque ci sono c'è questa persona o collegamenti con questa persona che ti fanno che ti danno questa sensazione di sicurezza c'è questa persona che è molto benevola nei tuoi confronti e positiva ed è anche foriera di nella tua serenità economica ok quindi non so se una mamma una persona che ti dà tanta tranquillità se siamo in situazioni in cui se tu la persona matura e non hai più genitori non è più la nonna non è più la mamma qui potrebbe essere il tuo atteggiamento di assoluta tranquillità nel portare avanti tutto ciò che riguarda le tue finanze e le economie con un senso di tranquillità e di come posso dire di estrema fiducia in te stessa o in te stesso ma soprattutto al femminile perché se sei un uomo indica una figura a te vicina di questo tipo qui ok caro sagittario questa è la situazione per quanto riguarda gennaio del 2023 ti invito a iscriverti al mio canale vedere gli altri video sulla previsione del 2023 e ti do appuntamento al prossimo video ti do di nuovo l'appuntamento al mio indirizzo mail se vuoi chiedere informazioni per un consulto privato sai neri 9 da 6 chioccio la gmail.com e ci vediamo presto ciao